Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. C'è già il quasi tutto esaurito per luglio ed agosto ad Alba Adriatica. Alba Tour, l'associazione che raccoglie oltre 40 operatori del settore, traccia il primo report di prenotazioni per la stagione estiva. Vacanze last minute per giugno e pienone per luglio ed agosto, con prime richieste anche per settembre. Alba Adriatica riesce ad avere delle buone prospettive anche per quest'anno, infatti fioccano le prenotazioni, quindi diciamo che i mesi clou possiamo dire che sono quasi sold out, diciamo, quindi il luglio ed agosto viaggiano a gonfie vele, ovviamente su giugno si aspetterà un po' per rimpolpare le prenotazioni, perché come al solito fanno parte un po' più delle vacanze last minute, quel tipo di periodo, ma anche lì avremo buoni risultati, sempre se il tempo ci accompagnerà, diciamo, con delle belle giornate. Ci saranno dei ritocchi nei listini, considerando comunque il caro energia, l'inflazione, l'aumento anche di tanti costi che inevitabilmente ricadono anche su voi operatori? Beh, purtroppo devo dire, ecco, di sì, che qualche aumento si potrà riscontrare, sia nel preziare degli alloggi che in quelli dell'ombreggio, quindi per quanto riguarda sulla spiaggia. Il bello del nostro territorio è che questi aumenti riusciremo a contenerli in percentuali veramente minime, quindi, diciamo, si troveranno qualche aumento, ma saranno molto, molto contenuti, quindi potremmo ancora vantarci, diciamo, come località di offrire delle buone tariffe, quindi con un buon rapporto qualità-prezzo, perché al Badriatica rimane sempre una località con una grandissima scelta di alloggi. Nonostante la crisi, i vacanzieri, per lo più italiani ed europei, scelgono periodi brevi che non superano mediamente i dieci giorni. La tendenza non è quella ad aumentare sicuramente il periodo di soggiorno, però essendo, diciamo, attrattori di un turismo femmili, il quale riesce comunque a mantenere una presenza media della famiglia tipo in una settimana minima.